Un altro servizio di messaggistica privata integrato in Facebook è quello di chat. Cliccando questo riquadro, si apre un pannello che mostra i nostri contatti Facebook. Le persone che in questo momento si trovano all'interno di Facebook e sono disponibili a chattare, sono indicate con un pallino verde sulla destra. Cliccando sul nome di una persona, si apre la finestra di chat con il cursore lampeggiante e pronto a ricevere del testo. Per inviare un messaggio, premiamo il tasto invio. Ricorda che per andare a capolinea senza inviare il messaggio, possiamo usare la combinazione di tasti Shift-Invio. E poi Invio da solo per inviare. Il messaggio viene ricevuto istantaneamente e a meno che il nostro interlocutore non sia distante dal computer, possiamo aspettarci una risposta a breve. Questi due pulsanti ci consentono rispettivamente di inviare una foto tramite questa finestra di chat e di inserire uno smile all'interno del testo da inviare. Possiamo scegliere fra i cosiddetti adesivi o le semplici emoticon. Questo tasto invece apre un pannello da dove possiamo installare nuovi adesivi. Basta cliccare sul tasto gratis per scaricare quel determinato set di adesivi. Per chiudere il pannello, premiamo il tasto Esc sulla tastiera o facciamo un clic sulla X in alto a destra. Ecco il nuovo set di adesivi. Per inserire un adesivo o un emoticon nel messaggio di chat, basta cliccarci sopra. Nel caso dell'emoticon, viene riportata solo la relativa combinazione di caratteri. Infatti ad ogni emoticon è associata una specifica combinazione di caratteri. L'icolcina in sé appare quando premiamo il tasto Invio per inviare il messaggio. Qui in alto troviamo il tasto per chiudere questa finestra di chat, un menu di opzioni relativo a questa conversazione, il tasto per avviare una videochiamata, questo però richiede l'installazione di un software aggiuntivo sia sul nostro computer che in quello del nostro interlocutore. E ovviamente anche la disponibilità di una webcam da parte di entrambi. E infine tramite questo tasto possiamo aggiungere altre persone alla chat. Digitando i nostri messaggi in questa nuova finestra, raggiungiamo contemporaneamente tutte le persone coinvolte. Quando siamo noi a ricevere un messaggio, la finestra di chat si apre automaticamente. Tieni presente che ogni volta che accediamo a Facebook, i nostri contatti possono vedere che siamo online e disponibili alla chat. Nel caso non volessimo utilizzare i servizi di chat o temporaneamente non volessimo essere disturbati dai messaggi di chat, basta tornare alla schermata principale, aprire il menu di opzioni con il tasto in alto a destra e selezionare Disattiva chat. In questa finestra possiamo specificare se disattivare la chat per tutti i nostri amici, se disattivarla ma rimanere disponibili solo per qualche nostro amico, basta specificarne i nomi in questo campo, oppure se escludere dalla chat qualcuno in particolare. Confermiamo con OK oppure premiamo Annulla per mantenere la chat attiva. Se disattivi la chat, ricordati che puoi sempre riattivarla con l'operazione inversa dal menu di opzioni. Nota che questo numero fra parentesi corrisponde al numero di contatti disponibili alla chat. Infine il servizio di chat è integrato con quello dei messaggi privati. Se inviamo un messaggio di chat ad un amico che attualmente non è online, quel messaggio verrà recapitato al nostro amico come messaggio privato, in modo da consentirgli comunque di prenderne visione. Il servizio di chat è un ottimo modo per scambiare brevi messaggi di testo in tempo reale con i nostri amici Facebook.